Buongiorno da Bruxelles. Da decenni sentiamo dire che gli italiani sono evasori impenitenti, in particolare che i colpevoli sono gli autonomi, le partite IVA, le piccole imprese e che all'estero invece si pagano le tasse eccetera eccetera. La verità è ben diversa. Il vero buco che drena il gettito fiscale italiano non è l'evasione di sopravvivenza, di chi deve scegliere fra pagare l'IVA o i dipendenti o di chi si rifugia nel nero per assenza di alternative, ma è l'elusione delle grandi imprese, le cosiddette società offshore che approfittano della disomogeneità delle politiche fiscali non solo a livello globale ma anche all'interno dell'Unione Europea. Disomogeneità che combinata con la libera circolazione delle merci, dei capitali e del lavoro consente alle multinazionali di fare profitti ovunque pagando le tasse solo nel paese che ha le aliquote più convenienti. Non a caso infatti nei paradisi fiscali europei come Lussemburgo, Olanda, Irlanda, Cipro e Malta hanno sede decine di migliaia di imprese estere che approfittano delle aliquote fiscali super vantaggiose e degli scarsi controlli per sfuggire al fisco del proprio paese d'origine senza incorrere in alcuna violazione di legge. Diverse inchieste hanno già evidenziato questo fenomeno come le famose Panama Papers e Lux Leaks che ha coinvolto persino l'ex presidente della Commissione Europea Juncker che era primo ministro del Lussemburgo. Oggi arriva una nuova inchiesta denominata Open Lux condotta dalle più importanti testate giornalistiche europee tra cui quelle della Germania, Francia e Belgio e che smaschera le pratiche fiscali aggressive di alcuni paesi membri che falsano la concorrenza e minano l'unità dell'Unione Europea e soprattutto dell'Eurozona attraendo con aliquote e controlli irrisori immensi volumi di capitali che vengono sottratti agli altri stati. I dati raccolti evidenziano che circa 55 mila società offshore gestiscono asset per un valore totale di almeno 6 trilioni cioè 6 mila miliardi di euro tramite società fantasma senza uffici o dipendenti site nei paesi europei che sono dei veri e propri paradisi fiscali accettati in Europa. Solo in Lussemburgo ci sono 140.165 società attive ovvero una ogni quattro abitanti mentre nel vicino Belgio sono una ogni 17 abitanti delle quali il 90 per cento sono estere cioè intestate a non residenti. Per la metà di queste non risulta la reale identità del proprietario e fra quelli dichiarati risultano anche figure discutibili in quanto legate a traffici illeciti e con circa 5 mila società e 4 mila beneficiari l'Italia si colloca al quarto posto fra gli stati europei che hanno spostato in Lussemburgo i propri profitti eludendo le tasse imposte dal proprio paese. Ma come reagisce l'Unione Europea a fronte di tutto questo? Si parla da anni di una direttiva che obblighi le multinazionali che operano in ambito europeo a dichiarare ogni anno i ricavi prodotti e le tasse pagate in ciascun paese membro. Ciò aumenterebbe almeno il livello di trasparenza e dopo anni di stallo pare che la presidenza portoghese abbia intenzione di completare l'iter legislativo di questo provvedimento. Ma manca ancora una normativa che incida veramente sulle politiche fiscali aggressive e il conseguente dumping cioè la concorrenza fiscale a ribasso posta in essere da alcuni paesi a danno di altri. Su questo punto si è attivato ora il Parlamento Europeo con un mini report cioè una proposta di iniziativa parlamentare rivolta alla Commissione affinché provveda con una vera e propria proposta legislativa che regoli la materia. Va ricordato infatti che ai sensi dei trattati europei l'iniziativa legislativa spetta sempre e soltanto alla Commissione. È questa un'anomalia che riduce moltissimo il potere del Parlamento e quindi il tasso di democrazia dell'intero impianto dell'Unione Europea visto che il Parlamento è l'unico organo elettivo di tutte le istituzioni europee. L'ini report in questione proviene dalla Commissione Econ ed in particolare dalla sottocommissione FISC che si occupa specificamente delle politiche fiscali e tributarie e chiede l'introduzione di una digital tax a livello di Unione Europea. Io faccio parte di entrambe e sono relatore ombra di questa proposta di iniziativa. Va detto che parallelamente sono in corso i negoziati a livello OXE cioè l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo a livello mondiale con 37 Paesi membri per l'introduzione di una normativa uniforme in materia di tassazione dell'impresa e del digitale con la fissazione di una scadenza temporale a luglio 2021 per la proposta di un progetto di legge definito. Il Parlamento europeo però a fronte di possibili ritardi od ostacoli da parte degli Stati Uniti o dei Paesi in via di sviluppo intende comunque provvedere via autonoma con una propria normativa che si applichi a tutte le multinazionali del digitale operanti sul territorio anche virtuale europeo. Si è scelto di dare la precedenza ad un intervento mirato al settore del digitale in quanto questo ha avuto un'espansione esponenziale negli ultimi anni specie nella pandemia giungendo a volumi d'affari imponenti e viste le sue caratteristiche si presta maggiormente alle pratiche elusive. Da ciò deriva che i profitti delle imprese del digitale sono decisamente sottotassati il che comporta un iniquo drenaggio di gettito fiscale per l'intera Unione europea che in questo particolare momento storico ha bisogno di risorse economiche ingenti per gli investimenti nella ripresa dalla crisi economica provocata dalla pandemia da Covid-19. Pertanto l'obiettivo prefissato è quello di realizzare una regolamentazione valida a livello europeo a cui tutte le imprese di qualunque nazionalità debbano conformarsi e che consente all'Unione di riappropriarsi del gettito sinora eluso attraverso due strumenti essenziali. Primo, un nuovo criterio di collegamento fra attività di impresa e diritto di imposizione fiscale con la revisione del nesso fiscale al fine di consentire la tassazione delle imprese multinazionali nelle giurisdizioni di mercato in cui di fatto operano, anche laddove non sia rilevabile una presenza fisica a livello territoriale. Due, la fissazione di un'aliquota unica uniforme in tutti i Paesi dell'Unione che confluisca nel bilancio comune dell'Unione europea come risorsa propria finalizzata al sostegno finanziario del programma Next Generation EU, ovvero The Recovery Fund, con conseguente minore aggravio a carico dei contributi dei Paesi membri. La proposta è apparentemente ambiziosa, ma ormai in verità necessaria e indifferibile per garantire una risposta equa ed efficiente alle istanze sociali ed economiche cui l'Unione deve fare fronte. Il mio contributo alla proposta si articola in emendamenti a nome della Delegazione della Lega, tesi ad ampliare il raggio d'azione della riforma, sino a ricomprendervi l'intero spettro delle imprese multinazionali che operano in Unione europea, ponendo in essere pratiche elusive, non limitandosi quindi ad intervenire soltanto nei confronti delle imprese del settore digitale, perché sprecare l'occasione di una riforma così importante, escludendone colossi come le multinazionali del farmaco, della finanza e di altro tipo, per assecondare ancora gli interessi delle grandi lobby, sarebbe a mio avviso un segnale di debolezza dell'Unione nei confronti di queste ultime, che minerebbe la credibilità delle istituzioni europee di fronte ai cittadini. Vi terrò informati sull'evolversi dei lavori, la partita è molto importante e riguarda tutti noi. A presto.